buongiorno dagli studi di obiettivo news oggi 8 marzo è san giovanni di dio ed è anche la giornata internazionale dei diritti della donna chiamata popolarmente la festa della donna ricorre l'otto marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali economiche politiche sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo il fiore che viene regalato in questa ricorrenza è la mimosa secondo gli indiani d'america i fiori della mimosa significano forza e femminilità non è quindi un caso che sia stato eletto fiore simbolo della festa della donna non solo infatti perché fiorisce in concomitanza dell'otto marzo ma un significato in linea con la ricorrenza la mimosa venne infatti scelta come fiore per commemorare le operaie morte durante un incendio della fabbrica di new york in cui lavoravano i tristi episodi avvenne proprio l'otto marzo del 1908 nel 1946 unione donne italiane scelse la mimosa come fiore perfetto per simboleggiare la festa della donna